E ci facciamo sentire con un'unica voce. Noi siamo la Roma! La Roma! La Roma! Di corte numero uno, Mechel! Olito! 24, Alessandro! Olenchi! 20, Federico! Olenchi! 44, Costa! Olenchi! 11, Alexander! Olenchi! Sette, Lorenzo! Ehi! Il simbolo è capitano, numero 16, Daniele! Ehi! Numero 4, Lucia! Ehi! 92, Stefano! Ehi! 14, Patrice! Sì! 9, Adi! Sì! Noi siamo la Roma! A disposizione, Provento Stavoschi. 45, Gesù! Provento Stavoschi! Provento Stavoschi! Provento Stavoschi! Provento Stavoschi! Provento Stavoschi! Trovento Stavoschi! Pura 40, Aldo Rucci! L'allenatore! Eusonio! Sì! 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 Grazie a tutti.